Musica Bentornati ad una nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di REI, reddito di inclusione. Quali sono i requisiti per richiederlo? Sentiamo l'Avvocato Pollastro. Buongiorno a tutti. Si è parlato molto in questi giorni di un nuovo provvedimento che è entrato non solo in vigore, ma in applicazione, ma di cui ho la sensazione che tutti ne sappiamo un po' poco. È il cosiddetto reddito di inclusione, che il Ministero del Lavoro ha definito con la sigla REI, reddito di inclusione. Allora, innanzitutto, il reddito di inclusione è partito come applicazione, come effettivamente erogazione da parte del Ministero, col primo gennaio di quest'anno 2018 e che si tratta di un sussidio per situazioni familiari e personali di grave difficoltà economica, una situazione che è accompagnata da un'obbligatoria disponibilità della persona ad un percorso di riavvio al lavoro o di percorso, in qualche modo, di ricerca di nuove collocazioni lavorative. Allora, innanzitutto, vediamo di capire di cosa stiamo parlando, di una somma che viene erogata attraverso una carta prepagata di importo oggettivamente non particolarmente elevato, varia in funzione del numero delle persone che compongono la famiglia. sostanzialmente è circa poco meno, circa 187 Euro al mese, quindi 2250 Euro anno per una persona sola. Ogni componente familiare in più comporta circa 1000 Euro in più all'anno, quindi diciamo un po' meno di 100 Euro al mese in più. viene erogato per un periodo di 18 mesi, un anno e mezzo, se uno dopo l'anno e mezzo non può chiedere un'altra volta, ci deve essere un periodo di intervallo di almeno 6 mesi, dopodiché uno può chiedere un nuovo periodo di reddito di inclusione per un altro anno. In buona sostanza, quindi, abbiamo un anno e mezzo di possibilità di chiedere reddito di inclusione, abbiamo la necessità per chiedere uno nuovo di un buco, chiamiamolo così, di 6 mesi. Dopodiché uno può chiedere un nuovo reddito di inclusione, a questo punto non è più di durata un anno e mezzo, ma di durata solo un anno. Allora qui ci troviamo di fronte ad un reddito, oggettivamente di valore piuttosto contenuto, che riguarda famiglie o persone in grave situazioni economiche. Ho detto, un reddito abbastanza contenuto, stiamo parlando di dai 200 ai 500 Euro al mese, quindi una cosa, 500 Euro peraltro per famiglie particolarmente numerose, eppure l'Inps comunica che a partire da dicembre, quando è partita questa nuova operazione, sono ormai decine di migliaia le domande che sono giunte, quindi segnale evidente di una situazione di sofferenza diffusa da parte delle famiglie italiane e da parte quindi di una situazione anche di condizioni di emarginazione dalla società e di povertà anche gravissima, che sta diventando una situazione endemica, una situazione abbastanza stabile nella nostra società e nelle nostre città. Allora, innanzitutto ci sono due tipi di categorie, di requisiti meglio, per poter avere questo reddito di inclusione. Il primo è un requisiti di tipo reddituale, di tipo personale. In buona sostanza bisogna avere una dichiarazione ISEE, cioè quindi un reddito riferito all'anno scorso, attenzione, la dichiarazione deve essere annuale, per cui se uno ha presentato la domanda l'anno scorso dovrà ripresentare la domanda l'ISEE quest'anno, non superiore a 6.000 Euro su base anno. Dopodiché uno può avere massimo un valore personale familiare non superiore a 20.000 Euro, escludendo, questo va chiarito, escludendo però la casa di abitazione, e un patrimonio mobiliare, conti correnti in modo particolare, non superiore a 10.000 Euro, che si riduce ad 8.000 Euro in caso in cui ci sia una coppia e 6.000 Euro nel caso in cui la persona, la famiglia, la persona sia sola. Questi sono i redditi quindi di natura caratteri reddituali, requisiti di carattere reddituale. Poi esistono dei requisiti caratteristiche della famiglia. In prima battuta, in prima partenza, il Ministero chiede anche che la famiglia sia in grado di avere, deve avere alcune situazioni di emergenza, di difficoltà. Almeno un minore di 18 anni, o una donna in gravidanza, o la presenza di un invalido, oppure una persona con più di 55 anni d'età, assente dal lavoro, senza lavoro, da almeno 3 mesi. Attenzione, attenzione, prima domanda, è compatibile questo reddito di inclusione, questo contributo con altri contributi? No, la risposta è netta. Se non solo la persona che fa la domanda, ma qualsiasi componente della famiglia percepisce, ad esempio, l'indennità di disoccupazione, il reddito di inclusione non viene erogato. Seconda domanda, che di solito la gente dice, dove devo andare per fare la domanda? Il punto di riferimento più semplice sono i comuni dove uno risiede. Il comune o gli uffici che il comune ha indicato dove poter fare la domanda. Certo, uno può fare la domanda anche online, ma al di là delle domande online, ricorsi al proprio comune di residenza e chiedere dove poter fare la domanda. In quella sede verranno anche indicati e verificati esattamente i documenti da produrre e la verifica, diciamo, dei requisiti. Tenete presente che i requisiti di tipo familiare, le condizioni familiari, non saranno più richieste a partire da luglio. Oggi, invece, è necessario avere quei requisiti di natura familiare. Grazie. Parliamo di donazione. Quali sono gli aspetti più importanti di questo contratto? Sentiamo l'Avvocato Bortolotti. Parliamo di un contratto che è spesso citato, se ne parla spesso, anche fra familiari e comunque nell'ambito dei normali discorsi che riguardano la vita della famiglia, ma del quale forse non tutti conoscono gli aspetti pratici più importanti, più rilevanti. Mi riferisco alla donazione. La donazione è un contratto molto importante, la cui rilevanza, la cui portata, va conosciuta abbastanza nel dettaglio. Quindi, con la consueta praticità e sinteticità, vediamo di focalizzare quelli che sono i punti più importanti che tutti dovrebbero conoscere prima di ipotizzare, di porre in essere un contratto di questo tipo. Allora, la donazione è un contratto costituito da due soggetti. Allora, una parte, un soggetto che per spirito di liberalità, quindi di gratuità, decide di arricchire l'altra, di arricchire l'altro soggetto, disponendo a suo favore un diritto proprio, quindi un bene proprio, oppure assumendo in favore di quest'altro soggetto un'obbligazione. Due sono gli elementi fondamentali di questo contratto. Come abbiamo detto poc'anzi, lo spirito di liberalità, la gratuità, quindi non ci deve essere alcun tipo di corrispettivo previsto per la donazione e l'effettivo arricchimento dell'altra parte, cioè ci deve essere un effettivo incremento del patrimonio di quello che è il donatario, cioè colui che riceve la donazione. Quindi possiamo ben capire che questo tipo di contratto, questo tipo di negozio giuridico, è precluso da alcuni soggetti, soprattutto ai minorenni, ovviamente agli interdetti, gli inabilitati e soprattutto a un'altra categoria oggi molto diffusa e abbastanza conosciuta, che è quella dei soggetti che sono sottoposti ad amministrazione di sostegno. Infatti essendo la donazione un contratto molto gravoso, importante, sicuramente le regole dell'amministrazione di sostegno prevederanno che il soggetto non possa da solo e senza l'avallo del giudice e dell'amministratore di sostegno procedere con una donazione. Proprio l'importanza e la gravità dell'impegno che si assume donando un bene o un diritto ad un altro soggetto fa sì che sia assolutamente obbligatorio l'atto pubblico per divenire ad una donazione valida, ossia occorre recarsi da un notaio e far predisporre lo specifico negozio di donazione e saranno, a maggior riprova dell'importanza del contratto, della decisione che stiamo assumendo, saranno necessari anche due testimoni. È importantissimo ricordarsi un aspetto procedurale, ossia la donazione ordinaria è normalmente irrevocabile, ossia una volta che uno ha deciso di donare un bene, un diritto per arricchire un altro soggetto in maniera gratuita, assai difficilmente potrà tornare sui suoi passi. Perché dico? Assai difficilmente perché esistono due sole tipologie, due sole casistiche, in cui la legge permette di tornare indietro, quindi di revocare la propria donazione, sono quelle di indegnità del donatario, cioè di colui che riceve la donazione, indegnità e ingratitudine, in casi che sono molto gravi e previsti dal codice civile, e per la cosiddetta sopravvenienza di figli, cioè se colui che dona, nel momento in cui dona, non aveva figli, oppure poi scopre addirittura di avere un figlio, allora per questo importante mutamento familiare, può chiedere di tornare sui propri passi. Una donazione che invece è totalmente irrevocabile è quella cosiddetta rimuneratoria, ossia è una particolare donazione che ha come fondamento quello di rispondere ad un favore che noi abbiamo già ricevuto, quindi se la causa fondante della nostra donazione è quella di rendere il bene, il favore, la gratuità che abbiamo già ricevuto a nostra volta, quel tipo di donazione che ha questo presupposto sarà totalmente irrevocabile ed è bene ricordarlo. Un ultimo aspetto che occorre teneramente ragionando intorno alla donazione è l'istituto della collazione. Cosa vuol dire? È un aspetto che va assolutamente tenuto a mente, molto importante e che è auspicabile discutere col notaio, con un avvocato che vi assisterà nel caso a cui voi state pensando di porre in essere una donazione. La collazione è quell'istituto giuridico che vuole che alcuni soggetti, in particolare il coniuge, i figli, i discendenti dei figli o anche gli ascendenti, cioè i genitori di chi dona, una volta che hanno ricevuto la donazione alla scomparsa di chi ha donato siano tenuti a rimettere diciamo sul piatto quello che hanno ricevuto quando il donante era ancora in vita. Questo perché? Perché la legge tutela alcune categorie di eredi, in particolare quelli che ho elencato prima, il coniuge, i figli, i discendenti dei figli e i genitori e il fatto che quando il donante fosse in vita il proprio patrimonio è stato diciamo intaccato e diminuito vuole che alla sua morte tutto torni allo status quo e si proceda in questo modo all'equa ripartizione di quanto spetta a tutti gli eredi. Quindi in soldoni occorre ricordarsi che quando si fa una donazione colui che la riceve alla scomparsa di chi ha donato sarà molto probabilmente costretto a rimettere sul piatto ciò che ha ricevuto a meno che non si abbia l'accortezza nell'atto pubblico di prevedere la cosiddetta dispensa dalla colazione e questo dovrà essere ovviamente oggetto di consiglio di consulenza di un professionista di un notaio di un avvocato a cui ovviamente è il caso è evidente per l'importanza del contratto rivolgersi in questi casi. Anche per oggi la puntata è finita se avete domande per i nostri avvocati scriveteci avvocati rispondono chioccioleilcomizio.it Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.